Allora Cane Babone e Gatto Corat, oggi andiamo a conoscere la musica di Mozart. Certamente, andiamo a vedere il concerto. D'accordo, andiamo. Ok, si va. Ciao Cane Mozart, ciao anche voi amici. Come state? Bene, sto bene. E tu? Tutto bene. Cane Mozart? Sì, sta per iniziare al concerto. Sbrigati a venire. Va bene, ci vediamo lì. Sbrigati a venire. Cani, possiamo cantare così fan tutte. E anche in flauto magico. Certo, pronti? Sbrigati a venire. 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 bene. Bene, vi siete divertiti cani? Sì, mi sono divertito un mondo D'accordo, è stato bello per andare a conoscere il Mozart Certo che lo conosco Certo che lo conosco